punto shop mi piace pelle stanca muscoli tesi piedi screpolati potete andare in un centro benessere per ringiovanire la vostra pelle e rilassarvi oppure potete avere i benefici di un trattamento professionale direttamente a casa vostra con spin spa la spazzola rotante che trasforma la doccia in relax la spazzola micro dermo abrasiva elimina le cellule morte per un effetto antietà la spugna grazie alla sua delicata azione esfoliante riduna luce e tono alla pelle la spazzola massaggiante è ideale per le contratture perché aiuta a alleviare piccoli dolori muscolari e non solo le sue morbide setole aiutano a riattivare la circolazione soprattutto nelle zone più colpite dagli inestetismi della cellulite per la pelle screpolata dei piedi e per ammorbidire cali e duroni provate la pietra pomice per una pedicure perfetta in ogni momento con spin spa potrete godere di tutti i benefici di un trattamento professionale ma è perfetta anche per l'igiene quotidiana aggiungete il vostro sapone o il vostro prodotto preferito e spin spa fa il resto lo speciale manico permette di raggiungere tutte le parti del corpo compresa la schiena e le gambe senza fatica da oggi con spin spa avrete tutti i benefici di un centro benessere direttamente a casa vostra sono un estetista e mi prendo cura della vostra pelle posso ridarle tono e luminosità poi però sto a voi mantenerli con spin spa avete la spazzola micro dermabrasiva la spazzola massaggiante per ridurre la cellulite e la pietra pomice per i piedi tutto ciò di cui avete bisogno in un unico eccezionale apparecchio spin spa e tanti apparecchi in uno è un prodotto meraviglioso assolutamente meraviglioso da quando uso spin spa di punto shop la mia pelle è ringiovanita è più morbida più luminosa ha un aspetto più sano il lungo manico di spin spa è l'ideale per me così posso raggiungere ogni punto della mia schiena e poi è veramente leggero e facile da usare non vedo l'ora di usare il mio spin spa ogni giorno spin spa vi arriverà completo di tutti e cinque gli accessori la spazzola pulente la spazzola micro dermabrasiva la spugna rete la spazzola massaggiante e la pietra pomice questo kit di elevato valore commerciale può essere vostro al piccolo prezzo che vedete in sovrimpressione ma non è tutto se chiamate ora riceverete incluso nel prezzo anche il mini kit con spazzola micro dermabrasiva per il viso completo di tutti gli accessori per un trattamento professionale a casa vostra più l'esclusivo cofanetto porta spazzola chiamate ora punto shop e ordinate subito al piccolo pre impressione non perdete tempo chiamate e riceverete il spin spa con tutti e cinque gli accessori e il kit micro dermabrasivo al fantastico prezzo in sovrimpressione portate a casa vostra un vero trattamento professionale chiamate ora e non dimenticate di visitare anche il nostro sito per la signora gorgonzola ottima scelta bella topolona formaggio gorgonzola tv lcd 19 pollici philips hd ready a soli 259 euro il natale sotto costo da expert l'inter è la squadra più forte alla roma è la squadra migliore e la juventus è la sorpresa di questo campionato questi europei noi non li vinciamo dal 1968 praticamente l'unico che l'ha visto in Italia vincente sei tu tutto questo dramma fanno una partita di pallone non è che stanno decidendo le sorti del mondo prestigiosi ospiti in collegamento e in studio la simpatia di cristina pantone le partite non finiscono mai lunedì alle 23 e 15 sulla 7 su un infinito cielo di cacao una magica scia di polvere di stelle trasforma i sogni in deliziose bontà dolcissimi auguri da pandistelle sensuel e magnétique l'unif salon ogni mattina hai bisogno di forza e i tuoi ricci pure frutti style spuma idraricci l'unica le microcere di frutti fortificanti che ridisegna i tuoi ricci e li fortifica allo stesso tempo per ricci più elastici definiti e protetti dal crespo tutto il giorno nuova linea garnier frutti sidraricci prenditi cura di te garnier consiglio numero 8 con blonde expresso in due minuti scateni il cuoco che c'è in te non ci credi? scegli gli ingredienti che preferisci e li abbini secondo la tua ispirazione semplice no? versi blonde expresso in padella e voilà! pronti per i complimenti! visto? la qualità è gallo la creatività è tua riso gallo blonde expresso anche tre cereali chi-chi-ricchi di fantasia mi piace il rosso mi rallegra più del grigio mi piace il verde prato perché è il colore del gioco mi piace sapere che il verde diace gentile pulendo a fondo mantiene i colori vivi mi piace il rosso vivo che fa battere forte il cuore mi piace la mia ace gentile e poi mi piace la straordinaria densità di ace candeggina denso profumata il suo profumo di bianco ace denso profumata è densa e profuma davvero pace la vita che mi piace dopo aver conquistato il cielo l'Everest la luna conquistiamo il collo nasce Philips Architect il primo rasoio con testine flessibili e blocco di rasatura completamente snodato da oggi puoi raderti perfettamente anche sul collo semplicità è raggiungere anche i punti meno accessibili etos profumeria dimmi di sì il benessere nasce dalla freschezza dimmi di sì my heart is drenched in white un cordiale saluto a Giacomo benvenuti quest'oggi a questo importante appuntamento un appuntamento dove AminFlex ha rinnovato completamente la sua offerta abbiamo cambiato i materiali abbiamo aggiunto un accessorio importante alla nostra offerta ma abbiamo sempre mantenuto il piccolo prezzo di fabbrica ma guardiamo subito questo importante accessorio parliamo di AminPower la pedana vibrante di nuova generazione che AminFlex ha realizzato in collaborazione con una grande azienda e soprattutto il sogno di tutti gli italiani a vostra portata perché l'abbiamo compreso nell'offerta di oggi la pedana vibrante che avete visto magari in una palestra avete visto in casa da un amico è vostra compresa nell'offerta di oggi il prezzo è sempre quello di fabbrica è sempre il prezzo di AminFlex non ci sono intermediari e quindi vi offriamo il tutto a soli 23 euro al mese senza anticipi quindi che cosa vuol dire? meno di un caffè al giorno per avere cosa? la grande straordinaria offerta di AminFlex e cominciamo con Infinity il materasso di nuova generazione su questo materasso c'è la fascia perimetrale anti appossamento c'è il trattamento Attilgar permanente contro acari e batteri e soprattutto signori una garanzia di 20 anni di AminFlex per farvi stare davvero bene e in più continuiamo con questa grande offerta perché sempre nei 23 euro del piccolo prezzo di fabbrica avrete anche i due cuscini avete anche il coprino a terasso e avete anche lei Eletta, la rete con le doghe maggiorata con i suoi quattro piedini che fa una base letto ideale per il vostro letto e parliamo di novità parliamo di vestiletto velour guardate che bellissimo colore guardate che bellissimo materiale è in questo colore albicocca ideale, caldo importante per la vostra stanza da letto ma continuiamo ancora perché la testiera sempre in velour sempre in questo bellissimo colore albicocca sfoderabile, lavabile è anche questa compresa nella grande offerta di oggi sempre nei 23 euro al mese e sempre nei 23 euro al mese abbiamo anche la nostra bellissima velour color marrone ideale per l'autunno e in più è da mascata e in più abbiamo anche la seconda velour ideale invece per la primavera in questo bellissimo colore albicocca ma le unite tutte e due e ottenete la terza velour ideale per quando fuori fa davvero freddo c'è anche il lenzuolo in coordinato con le due fedele ricamato marrone bellissimo per questa grande offerta e c'è lei Eming Power la pedana vibrante di nuova generazione studiata da Eming Flex realizzata appositamente per voi per darvi il massimo a casa vostra avrete la possibilità di eliminare fastidiosi allenamenti in palestra con magari 10 minuti non andate un'ora a fare un'ora di nuoto rimanete in casa state comodamente seduti quando volete fate questi 10 minuti e ottenete il massimo perché migliorerete il vostro flusso circolatorio diminuisete gli inestitismi della cellulite e soprattutto con i 70 programmi personalizzati avete la pedana ideale per il vostro e giusto corretto fitness tutto questo con soli 23 euro al mese basta telefonare l'offerta è personalizzabile Eming Flex aspetta telefonate senza impegno mi raccomando per la signora gorgonzola ottima scelta bella topolona formaggio gorgonzola tv lcd 19 pollici philips hd ready a soli 259 euro il natale sottocosto da expert ehi ma è di mamma dash lana e delicati agisce in 5 modi per aiutare a preservare nel tempo la bellezza dei tuoi capi indovina chi è? no mi sembrava sua figlia scusi dash lana e delicati dash più luce alla tua vita caffè motta piacevolmente insieme avere un nuovo luogo è facile con l'esclusiva piastra professionale gamma laser dalla ricerca gamma le piastre professionali studiate per prendersi cura dei tuoi capelli asciuga capelli e piastre gamma con tormalina per un trattamento di bellezza completo gamma la tecnologia professionale a casa tua smeg tecnologia che arreda Italia Sud Europa MapShare esclusivo TomTom elegante super tecnologico ultra sottile Motorola TomTom più Motorola V3 a soli 259 euro il Natale sotto costo da expert Melasinap aiuta il buon sonno e ritrovi il buon umore Melasinap da Pulfarma in farmacia Black Excess Black Excess Black Excess for her the new fragrance by Paco Rabanne Campania dove l'accoglienza è mondiale siamo una squadra fortissimi Canta tu Gold Edition Top Radio legge MP3 JPEG Max Video e ti rivedi in tv USB Deluxe legge i DVD e qualsiasi formato vai Gigi Canta tu prenda in mano questa patata e mi dica cos'è il selenio il selenio il selenio è un DJ un DJ DJ selenio per fortuna le patate le comprano le donne selenella più la patata è buona più si diventa intelligenti Muller presenta Creme de Creme formaggio fresco spalmabile creme de creme con yogurt magro il piacere del formaggio secondo Muller Muller fate l'amore con il sapore Etos Etos profumerie dimmi di sì il benessere nasce dalla freschezza dimmi di sì per la signora gorgonzola ottima scelta bella topolona formaggio gorgonzola tv lcd 19 pollici philips hd ready a soli 259 euro il natale sotto costo da expert popolo delle libertà del popolo partito crozza e allora perché noi che chiamiamo gazebo dicono di voi delle cose terribili che siete feroce spietato crudele oh no sono solo rumeno perché io ho detto crozza italia live domenica alle 21 e 30 è arrivato babbo natale ma no babbo natale scende giù dal camino e se si fa male buttati che morbido panettone motta morbido natale prende in mano questa patata e mi dica cos'è il selenio il selenio è uno di quei nuovi mondi per fortuna le patate le comprano le donne selenella più la patata è buona e più si diventa intelligenti chillet bang e le sfide del pulito signora contenta del suo pulitore sono tutti uguali basta strofinare prove chillet bang pulisce perfettamente senza fatica poi mi dirà allora è fantastico stavo proprio a pulire la cucina guarda un po' e sul calcare è una meraviglia ma perché non me l'ha fatto conosce prima calcare sporco stinato macchia di sapone chillet bang è fantastico e non si fatica posso riaverlo? ma che scherza io questo non lo mollo più bang via lo sporco in un colpo boss fragrances for men più grande la sfida più c'è bisogno di Duracell le normali pile zinco carbone cedono sono sfinite quando la durata è importante Duracell dura fino a quattro volte di più e da oggi una montagna di pile gratis con le confezioni promozionali Duracell l'otto novanta numeri per i tuoi sogni dash lana i delicati agisce in cinque modi per aiutare a preservare nel tempo la bellezza dei tuoi capi indovina chi è? no mi sembrava sua figlia scusi dash lana i delicati dash più luce alla tua vita 4man magazine i 10 esercizi ammazza grasso i 10 desideri segreti delle donne i 10 alimenti che proteggono la tua salute e solo con 4man puoi avere il calendario di Keila e Spinoza davvero una bella scoperta il maxi calendario di Keila e Spinoza ha solo 3 ore e 90 in più Cairo Editore ma lei è dell'Unicredit Unicredit Banca Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire da oggi siamo insieme che bel gruppo è vero che trasferire il mio conto da voi non costa niente? con trasloco facile non costa niente e pensiamo noi a tutto posso contarci? può contarci ma che fa trasloca? passa da noi con trasloco facile pensiamo noi a tutto e non ti costa niente posso contarci? che profumo è lo stesso di allora a chi ama i caldi risvegli Mulino Bianco dedica saccottini nastrine e cornetti per una colazione che profuma di brioche brioche Mulino Bianco il piacere di mangiare sano sensuale e magnetiche l'Homme il Salon oggi è un giorno speciale nella fabbrica dei suoi presto, presto, arriva! allora, com'è il Natale quest'anno? Bianco, come al solito ah, e se invece fosse Friadesco oligodiano farà un gran Natale il più grande Sky, non smettere di sognare medagliano in corteccia molto bene e per la signora? Gorgonzola ottima scelta bella toporuna formaggio gorgonzola l'irresistibile l'ottimismo è sapere che Natale è alle porte la felicità è scoprire che all'uni euro c'è il sottocosto al cubo cellulare Nokia N76 con fotocamera 2 megapixel a soli 229 euro uni euro entri ottimista esci felice etos profumeria il benessere nasce dalla freschezza il benessere nasce dalla freschezza questo film è stato presentato da tv lcd 19 pollici philips sacca di redi a soli 259 euro il Natale sottocosto da expert buongiorno tra poco insieme con il telegiornale parleremo della sparatoria questa mattina all'alba tra carabinieri e malviventi dopo una rapina in una discoteca in provincia di Cremona intercettati dai carabinieri due banditi sono stati colpiti a morte altri due arrestati nella sparatoria feriti anche due carabinieri ma in modo non grave per la politica sentiremo poi gli aggiornamenti sullo scontro nella maggioranza sul pacchetto sicurezza la polemica è tra Mastella e il suo Udeur che minaccia la crisi sull'emendamento anti-omofobia e la sinistra radicale che si oppone alla cancellazione a Roma intanto oggi prova a nascere la cosiddetta cosa rossa il tentativo di unità tra i partiti della sinistra parleremo poi della prima a Milano alla scala del Tristano Isotta di Wagner accolto da un grande successo questo ed altro tra poco nel telegiornale dopo una breve pausa per la pubblicità le storie dimenticate e quelle che si preferirebbe dimenticare i protagonisti grandi e piccoli di vicende che segnano le nostre esistenze visti attraverso gli occhi e le telecamere dei giornalisti della serie un viaggio tra news e sport alla scoperta di facce luoghi testimonianze e simboli di quel kaleidoscopio chiamato realtà per non essere soltanto spettatori reality domenica sera alle 23.30 per la signora gorgonzola ottima scelta bella topolona formaggio gorgonzola tv lcd 19 pollici philips hd ready a soli 259 euro il natale sotto costo da expert vi sta aspettando apritela e come per magia a colori in bianco e nero entrerete in un sogno e il fascino del grande schermo vi catturerà il cinema e le sue storie vi aspettano sulla 7 con la valigia dei sogni ogni domenica dalle 14 questa è roba da film maestro questo è il mio mazza che bello beato lui ecco lui chi? è st'amico tuo natale vedi come me fa pure sotto le feste me fa così mail as in app aiuta il buon sonno e ritrovi il buon umore mail as in app da pool pharma in farmacia no ma voi siete siete dell'unicredit sì unicredit banca banca di roma banco di sicilia e bpop carriera un'unica grande squadra quindi adesso molte più agenzie devono aprire genius ricaricabile è vero che è il conto che azzera il suo costo e si ricarica automaticamente per esempio con lo stipendio sul conto e può fare operazioni sia in internet che in banca posso contarci può contarci eh visto che squadra genius ricaricabile il conto che si ricarica ogni mese e azzera il suo costo posso contarci smeg tecnologia che arreda in bangladesh il ciclone sidr ha lasciato dietro di sé migliaia di vittime e danni incalcolabili ora è tempo di agire agenzia italiana risposta a emergenza dona un euro con un sms wind team o vodafone o due euro da rete fissa telecom al numero 48581 ricorda un sms o chiama dal fisso il 48581 per l'emergenza in bangladesh le grandi organizzazioni non governative chiedono il tuo aiuto www.agire.it gli incentivi statali finiranno presto corri da Chevrolet e risparmi fino a 2800 euro rottamando la tua auto per acquistare Matiz Ecologic GPL a 6950 euro o Calo Ecologic GPL a 8.950 euro ma solo fino al 31 dicembre Chevrolet Per la prima volta in una raccolta tutti i successi Ultimate Santana Ultimate Santana A Natale regala la storia della musica C'era un giorno in cui l'energia era troppa alla terra non piaceva così gli uomini inizierano a ripensarla Cercavano un'energia nuova da produrre anche da soli e da scambiare per ricominciare da capo e ritrovare qualcosa che avevano perduto la gioia di usarla La prima goccia affascina La seconda strega Listerin L'unica bomba per la tua igiene orale Dimmi di sì Il benessere nasce dalla freschezza Dimmi di sì Tragica sparatoria nel cremasco dopo una rapina in una discoteca due bambini banditi un marocchino e un kosovaro vengono uccisi altri due arrestati nel conflitto a fuoco feriti anche due carabinieri che non sono in pericolo di vita Nella maggioranza è scontro sul pacchetto sicurezza Mastella minaccia la crisi sull'emendamento anti-omofobia e il governo promette modificheremo il testo intanto oggi è il giorno della Cosa Rossa Un quarto d'ora di applausi per Tristano e Di Sotta che ha aperto la stagione della Scala il capolavoro di Wagner conquista il presidente napolitano ed altri quattro capi di Stato Torna la Serie A con due anticipi Lazio-Catania e stasera Palermo-Fiorentina in pazza al calciomercato Ronaldinho sarebbe vicino al Milan già a gennaio questo ed altro nel telegiornale sportivo della Sette Buongiorno dal telegiornale avvenuta poco prima delle sei di questa mattina la sparatoria al confine tra le province di Bergamo e Cremona tra banditi e carabinieri finita con la morte di due dei rapinatori e il ferimento non grave di due militari quattro in tutto i rapinatori tutti stranieri che avevano svaliggiato una discoteca vicino Treviglio allora sentiamo in diretta Andrea Soglio Sì, buongiorno da Serniano quale in provincia di Cremona a pochi chilometri dalla provincia di Bergamo innanzitutto una chiarezza che rimetto sul bilancio di questa sparatoria di due malviventi uccisi uno di nazionalità albanese non kosovaro come ha detto in principio uno marocchino di due arrestati anche questo uno albanese e uno kosovaro è un po' Grazie a tutti.